Ciao ragazzi, io sono Fabrizio, il cofondatore di U.S. e oggi vi do un benvenuto nel nostro nuovo setting. Come vedete è una location nuova che piano piano allesteremo per i prossimi video, ma oggi ci rituffiamo direttamente nel nostro nuovo argomento, che sono i soprannomi italiani nel mondo della loro geria. Ciao! Gli italiani hanno avuto e hanno tuttora una certa importanza nel mercato del vintage, ma anche nel mercato dell'orologeria in generale. Parlavamo infatti con Michael Friedman tanto tempo fa, e ci diceva che alla fine la maggior parte degli orologi o dei marpighi sono stati influenzati proprio dai collezionisti italiani che richiedevano determinate specifiche tra le dimensioni delle casse, le anse, i quadranti, quindi siamo stati un po' i trendsetter di questo mondo e poche persone lo sanno. L'Italia vanta dunque alcuni dei nomi più importanti nel mondo del collezionismo vintage con persone come possono essere Goldberger, quindi Auro Montanari, oppure Davide Parmigiani, Alfredo Paramico, quindi nomi conosciuti davvero in tutto il mondo e riconosciuti come una vera autorità. L'influenza degli italiani ovviamente si è fatta sentire negli anni e ha portato appunto a soprannominare alcuni orologi dalle particolari caratteristiche tra casse, quadranti o altre parti dell'orologio, a soprannominarli appunto con dei nomi italiani. Oggi ne vedremo 5, ma ci sarà un secondo episodio dove ne vedremo tanti altri che possibilmente non conoscevate. Prodotti tra gli anni 40 e gli anni 60, i tasti tondi sono tra i cronografi più ambiti di Patek Flip e nel mondo del vintage. Il nome deriva appunto dalla forma dei tasti, che è rotonda, e che presenta una particolare zigrinatura sul lato del tasto. Questa zigrinatura è stata realizzata per renderli antiscivolo ed è una caratteristica che pochi cronografi all'epoca, quindi negli anni 40, 50 e 60, avevano. I tasti tondi, quindi la referenza 1463 e 1563, non è l'unica ad avere questi tasti, ma ci sono anche altri orologi come il Mido Multicenter Cronograph, che pur avendo un movimento, un quadrante, quindi un marchio diverso, presentano la stessa identica cassa, prodotta dallo stesso produttore che al tempo faceva le casse per Patek Flip. Quindi è come avere un tasti tondi, ma con un nome diverso. Il secondo soprannome che abbiamo scelto è quello di disco volante, che ovviamente è un po' simpatico perché è difficile immaginarsi un disco volante in un orologio, però i collezionisti hanno voluto soprannominare gli orologi principalmente di Audemars Piguet che presentano una lunetta sproporzionata, quindi avremo un piccolo quadrante al centro e una lunetta appunto molto grossa, oversize come direbbero in inglese. Questi orologi principalmente appunto sono legati al marchio Audemars Piguet ma troviamo ovviamente alcune eccezioni per altri marchi come ad esempio Cartier oppure Omega. Solitamente questa lunetta sproporzionata veniva abbellita con una finitura Clou de Paris oppure veniva lasciata semplicemente liscia o con altre particolari finiture magari non degne di nota. Altro soprannome simpatico che quando mi sono affacciato al mondo del vintage mi ha fatto un po' ridere è stato quello di Padellone. Con questo soprannome identifichiamo la referenza 8171 di Rolex che presenta una cassa oversize. Oversize perché? All'epoca diciamo che la maggior parte degli orologi avevano una forma, un diametro di circa 30, 32, 33, forse massimo 34 mm. Un Rolex da 38 mm non poteva che essere chiamato in maniera un po' ironica Padellone. L'orologio è un triplo calendario con fasi lunari e presenta una cassa da 38 mm. Non è l'unico orologio ad essere nominato Padellone, l'8171, ma ci sono anche due referenze di Patek chiamate in questo modo che sono la 3448 e la 3450. Il quarto soprannome è quello di Ossidi Morto, che è poco utilizzato negli ultimi anni dai collezionisti e con cui solitamente si identificava una referenza di Patek Philippe che è la 2442. Perché nominati Ossidi Morto? La forma della cassa è diciamo stondata, parte con delle anse che ricordano il dolce tipico siciliano appunto degli Ossidi Morto. I collezionisti adesso preferiscono utilizzare il nome Marilyn Monroe che ricorda la silhouette dell'attrice un pochino. L'ultimo soprannome è più in italianizzazione che un soprannome vero e proprio ed è quello di Salterello. Con questo termine identifichiamo degli orologi che presentano la complicazione delle jumping hour, quindi delle ore saltanti. Cos'hanno di particolare questi orologi? Hanno un display analogico, nonostante siano tutti gli effetti dei meccanismi meccanici. Questo significa che ci saranno dei dischi con le ore scritte e più una casellina che come vedete nelle foto è molto semplice da leggere. Perché saltanti? Al passare dei 60 secondi o dei 60 minuti la cifra salterà in avanti e da questo è nato il Salterello. Identifichiamo principalmente gli orologi Tanca Ghice con il nome Salterello, ma in realtà potremmo nominare anche altri orologi vintage dalle stesse caratteristiche. Bene ragazzi, io direi di fermarmi qui con questi 5 soprannomi e di scoprire la prossima volta, quindi nel prossimo episodio, gli altri 5 che abbiamo studiato per voi. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo sul mondo del vintage e ci vediamo al prossimo video.